L'ultima volta che ci siamo avventurati tra le strade di Los Perdidos non è andata granché bene. Fallen Angel si è dimostrato un DLC pigro e poco interessante, con qualche collezionabile, un veicolo extra di poco valore e una trama che francamente stentiamo a ricordare. Passati 15 giorni dalla sua uscita è appena arrivata la terza espansione di Dead Rising 3, intitolata Chaos Rising. Senza ulteriori preamboli siamo felici di comunicarvi che la situazione, rispetto alla volta scorsa, è decisamente migliorata. Non aspettatevi rivoluzioni o cambi di gameplay, visto che questa nuova mini-storia si sviluppa esattamente come le altre, ossia attraverso alcune missioni dalla durata di circa un'ora e mezza, che vi porteranno ad una conclusione che si incrocia con il gioco originale. Per fortuna, rispetto al DLC numero 2, qui abbiamo un personaggio che vive una storia piuttosto classica, ma narrata con chiarezza. Questa volta impersoneremo Hunter, il capo della gang dei motociclisti di Los Perdidos, che è finito in prigione dopo essere stato tradito da un suo compagno. L'epidemia zombie diventa così l'occasione perfetta per fuggire dalla prigione e per vendicarsi del torto subito. Questa crime story con i non morti in realtà non presenta alcun colpo di scena particolare, eppure ha il pregio di farsi seguire senza troppi complimenti, riuscendo anche ad inserire qua e là piccole caratteristiche che, probabilmente, rendono proprio Chaos Rising la migliore espansione delle tre uscite finora. Come di consueto sono state inserite delle nuove armi, che comprendono lo schioppo, ossia un fucile molto potente che incendia i nemici, un grosso martellone, un elmetto chiodato con cui prendere a testate o caricare i nemici, e una nuova arma combo che permette di lanciare delle pale. Come sempre alcune sono più utili di altre, ma sarà il veicolo speciale a farvi divertire maggiormente, visto che si tratta di una moto chiamata Trebiatrice, con delle seghe montate un po' dappertutto, oltre ad una modalità di fuoco con cui potrete lanciare frontalmente due lame circolari. A parte questi extra, che ampiano i giocattoli con cui divertirsi, non mancano anche in questo caso oggetti da distruggere, rappresentati da colonnine del telefono, oggetti da raccogliere, stavolta dovremo recuperare delle bottiglie di whisky pregiato, e soprattutto una missione secondaria che aggiunge un discreto fattore di rischio. Dovremo infatti ritrovare alcune moto custom, per riportarle sane e salve ad un compagno di malefatte di Hunter. Il problema è che tali moto, non essendo modificabili, obbligano il giocatore a prestare attenzione al numero di zombie che si colpiscono, poiché si rischia di farlo esplodere prima di aver raggiunto il luogo della consegna. Come dicevamo, niente che non si sia già visto altrove, ma rimane comunque più interessante di quanto proposto nei due capitoli precedenti. Un'altra ottima introduzione è l'inserimento di alcuni nemici umani, che di fatto si comportano in modo differente rispetto ai soliti soldati, attaccandovi con Molotov e cercando il corpo a corpo. Inoltre la trama vi chiederà di eliminare tre differenti luogotenenti, in tre combattimenti separati e distinti per meccaniche, oltre a mettervi finalmente davanti ad un boss finale che chiude degnamente il DLC proposto. Nell'arco dell'avventura potremo dunque combattere contro due psicopatici aggiuntivi, avvenimento non contemplato nelle due precedenti espansioni, che non ci avevano proposto nemmeno un vero combattimento finale. Chaos Rising, episodio numero 3 delle storie segrete di Lost Perdidos, si dimostra nettamente migliore dei primi due. Chi deciderà di acquistarlo per 9,99€ potrà vivere un'avventura divertente, seppur piuttosto breve, e potrà aggiungere al proprio inventario alcune armi interessanti, un veicolo fantastico e due scontri con altrettanti psicopatici tutti nuovi. Non cambia di una virgola le meccaniche di gioco, ma riesce a farsi giocare tutto d'un fiato lasciando il giocatore soddisfatto dopo il suo epilogo. Ora non ci resta che aspettare la quarta e ultima espansione per vedere come si concluderà questa serie di spin-off dedicata a Dead Rising 3. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS